E adesso respiriamo aria di mare, andiamo alla Maddalena in Sardegna dove si è appena concluso il festival La Valigia dell'attore dedicato alla memoria di Gian Maria Volontè Jasmine Trinca, migliore attrice all'Anseaterre Gard di Cannes quest'anno per Fortunata a guidare la banda Il racconto della quattordicesima edizione della Valigia dell'attore comincia così perché alla Maddalena sono gli attori i veri protagonisti nell'isola dove riposa forse il più grande di tutti i tempi Gian Maria Volontè e dove sua figlia Giovanna ha scelto di vivere 22 anni fa Ho capito che mi sarebbe piaciuto mandare avanti a una manifestazione annuale qui sull'isola dedicata al lavoro d'attore superando Gian Maria e rivolgendomi anche alle nuove generazioni di attori Proiezioni e incontri ma il cuore del festival è il Valigia Lab 12 giovani talenti che arrivano ogni anno dalle più importanti scuole di recitazioni italiane e che per una settimana grazie a borse di studio danno concretezza al sogno di recitare Tre caratteristiche che vorresti avere come attori Vorrei essere onesta e emozionante Non prendersi troppo sul serio, nel senso prendere molto sul serio quello che fai ma non te stesso La generosità è fondamentale, darsi, darsi senza vergogna, senza timore Il prof di quest'anno è stato Michele Riondino, premio Gian Maria Volontè 2017 La Valigia dell'attore, questo festival in particolare, è un festival che si concentra sul lavoro dell'attore ed è di particolare interesse e anche emozionato in maniera particolare stare qui Sia perché è la terra del più grande attore esistito in Italia Ci incontriamo qui e facciamo parte della stessa famiglia e tornare alla Maddalena è un po' come tornare per le feste comandate Lo stesso premio consegnato nel 2015 a Jasmine Trinca finora l'unica donna vincitrice che vedremo in giuria a Venezia e che riconosce su tutte una lezione di volonté oltre il tempo Siamo tutti creature fragili, ma gli attori hanno in più questa audacia di mostrare la fragilità quando poi nel mondo invece, nelle relazioni umane, si tende sempre a nascondere la parte più intima e autentica di sé